19 maggio Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse, Certo, il Signore è in questo luogo, e io non lo sapevo. Genesi 28, 16 Dio è vicino a te. Molte persone vivono senza alcun riguardo verso Dio, progettano la loro vita e programmano il loro domani senza renderlo minimamente partecipe delle loro scelte. Proprio nel giorno del fallimento e della solitudine più buia di Giacobbe, il Signore misericordiosamente si mostrò attento alla sua vita. Infatti, Dio non si nasconde all'uomo, piuttosto sono i nostri peccati. La nostra affannosa ricerca delle cose del mondo, che ci impediscono di comprendere che il Signore ci è vicino, pronto a benedire con la sua grazia chiunque l'invoca. Chissà se questo foglietto non ti è giunto fra le mani, mentre fuggi dinanzi alle conseguenze dei tuoi peccati. Tu non lo scorgi, non senti la sua voce, eppure il Signore è proprio accanto a te. Smetti di vivere ignorando Dio e perfino le persone che ti amano. Cristo, una volta ancora, ti sta tendendo la mano, smetti di fuggire, ammetti il fallimento e confessagli i tuoi peccati. E poi lasciati toccare dalla sua dolce presenza e plasmare dalla sua potenza. aprigli il tuo cuore e avvertirà il suo perdono, il suo calore e la sua cura in ogni circostanza della tua vita. Fa presto!